Il suo capo un giorno gli fa un'offerta che non può rifiutare. Organizza una cena una volta al mese. La prossima è sabato. Va bene. Ognuno trova una persona un po' particolare e la invita a cena. Ecco quello che ho invitato io l'anno scorso. Invitate i cretini a cena e li prendete in giro. È una cosa malatissima. Perché non mandi giro al rospo e ti trovi un cretino? A volte bisogna sapersi fermare. Tutto bene? Sì. Quello è uno Porsche. Sono finito sotto una tazzola una volta, mai sotto una Porsche. Sai, domani sera andiamo a cena con degli amici. Davvero? È incredibile. Congratulazioni. Ti andrebbe di venirci. Grazie. Di niente. Da regista di Ti presento i miei. C'è questa cena o no? È domani. Guarda che stasera. E mi presenti i tuoi? Oh mio Dio, le hai dato il mio indirizzo. Mi perseguitela due anni. Se vuoi le impedisco di entrare. Sono una scolaretta birichina. Sei un po' cresciutella per una scolaretta. Oddio. Quest'anno. Dove sei? La cena è cominciata. Sì! C'è una complicazione. Due improbabili amici. Si mangia la carta! No! In una pazzesca avventura. Signore e signori, la cena è servita. Sei sicuro di volerlo fare? Il tuo capo deve vedere che sei amico di un vincente. Ti presento Luis e sua moglie Diane. Sua moglie. Per ora. Guardalo. È cieco e spadaccino. E quest'altro? Controllo mentale. Raffo! Che onore essere qui! Mi stavi guardando le tette? No. Tim, sono serio. Ma figurati. Oddio. A cena con un cretino. Ciao Tim, hai preso il mio telefono. Ok? No. Hai ragione, non puoi sentire i miei messaggi. La mia password è P-A-S-S-W-O-R-D. Non senti i messaggi adesso? Come si fa? AAAAAAAA! I want to thank you.